Conosciuto per il suo fattivo impegno nella Croce Rossa, per il suo animo altruista e il suo cordiale sorriso, rimasto nel cuore di molti. Proprio per questo, Franco Ferrari, schicci per gli amici, responsabili della Crival Malenco, sempre in prima linea, scomparso lo scorso anno dopo essere precipitato nel vuoto, a rientro da una escursione glaciologica, non sarà mai dimenticato dalla sua terra. In sua memoria, grazie alla Croce Rossa e alla famiglia, un nuovo defibrillatore è stato posizionato in via Roma, presso l'ambulatorio medico. Mi papà per la Croce Rossa ha dato tanto e non ha mai mollato e spero che i volontari non molleranno mai. Devo ringraziare tutta la popolazione che è stata presente oggi e ringraziare tutti i suoi amici che hanno donato per il defibrillatore. Dopo la cerimonia religiosa, non nasconde la propria emozione neppure il primo cittadino, Renata Petrella. Dobbiamo dir grazie alla famiglia di Franco e grazie a lui per quello che ha fatto e speriamo che non servano mai, ma Chiesa sarà presto cardioprotetta e porteremo quindi avanti il progetto iniziato dal Ferrari, detto Schicci. E non poteva esserci modo migliore per ricordare questo professionista, capace di non arrendersi di fronte alle difficoltà e soprattutto in grado di azioni edificanti come appunto seguire progetti per aumentare sul territorio le postazioni dotate di defibrillatori. È una prima tappa di un progetto che voleva Franco. È nato da un'idea sua e fortunatamente adesso siamo riusciti ad avviarlo e speriamo poi anche a farlo crescere e a proseguire bene nel futuro.